Se trovo un'auto da corsa il video finisce Bella ragazzi volevo ricordarvi che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporta un creatore Inserite il codice creatore fortu come vedete a schermo Accettate Da ora ogni volta che farete un acquisto mi arriverà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi la sfida di oggi è se trovo un'auto da corsa Quindi un'auto sportiva, una Lamborghini tipo Il video finisce Vediamo un po' come va Allora io qui già mi piglio subito le pozze piccole Qua sta un camion e questo non è un problemino Mi faccio giusto un po' di materiali Ci prendiamo una mitraglietta e vediamo un po' come va Io ho già provato un tentativo con questa sfida E l'ho perso abbastanza in fretta in realtà Cioè ho perso diciamo la partita molto molto in fretta Però ok Vai mamma mia no 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 Qua questo fa un casino Questo fa un casino Questo fa saltare tutto in aria Non ci capisco più niente Dammi che Era un bot Mamma mia meno male che era un bot ragà Per panico Ok ci è andata bene Dai dammi tutta sta roba Grazie Mamma mia ragazzi è andata molto molto bene Ok Raga volevo dirvi che sto registrando la sfida in streaming Con i fan che mi controllano Quindi ovviamente non posso imbrogliare Perché loro stanno praticamente come Giocando con me Diciamo così Mamma mia No non entrate vi prego Mamma mia Che brutto errore qua Non me l'aspettavo E niente ragazzi Anche voi volete aggiungervi alle live Guardare le live In cui giochiamo assieme Tra l'altro anche su Fortnite Niente qualche volta Basta che andate in descrizione Nella sezione di live streaming E iniziate a seguirmi Mi è andata bene Fortunatamente L'avevo eliminato Attenzione sta un altro tipo qua Eh no però sto finendo i materiali Eh questo lo vorrei eliminare Ma come ci arrivo da sopra senza materiali L'altro non c'è manco il fucile a pompa Proprio è pericoloso stare qua Ma dove diavolo è? L'ho perso? Cioè sta sopra Sotto Dov'è? Calmo Ok a posto Mi è andata bene Dai Bende me le prendo Fucile a pompa me lo prendo Questo me lo prendo E mi prendo pure questo Ci siamo migliorati un po' tutto il set Oltre anni dico là Per ora raga Non stiamo trovando auto da corsa Perché vabbè Qui in realtà ne abbiamo trovate molto poche E cercherò di evitare comunque gli autogrill Perché di solito anche lì le auto si incontrano E prima ho perso proprio andando su un autogrill Quindi credo che sia la cosa migliore da fare Evitarli E poi speriamo Speriamo fondamentalmente Oh dai Vorrei prendere un'auto in realtà per muovermi ora L'unico problema ragazzi è che facendolo Se non mi muovo sulle strade asfaltate L'auto slitta e va molto lenta Quindi in quel caso quasi quasi camminare meglio a piedi insomma Che è st'auto No Ma io ci sono andato pure contro Musica 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 Musica